ok ragazzacci vai oggi è giovedì e quindi passiamo subito allo spacchettamento qui degli agenti ne ho collezionati solo 13 ragazzi non è che riesco a farne dipende il tempo che ho a disposizione perché vabbè comunque allora spacchettiamo prima gli agenti stars speciale che ne ho tre perché ho vinto la mini competizione online delle tre partite consecutive e vediamo un po cosa ne esce fuori da questo spacchettamento qui gli agenti speciali vai dammi un pallone nero e dai non fare così non fare così su chi è questo chi è chi sarebbe vabbè vabbè non è un top player ma ce lo teniamo lì vai con il secondo giro qui vediamo un po cosa ne esce fuori vediamo un po cosa ne riesco a pescare se è qualcosa di buono oppure no pallone nero è maremma maiala però eh non va bene non va bene così vabbè 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 contenti loro contenti tutti vai vai terzo giro di ruota per gli agenti stars qui ecco ora sono due palloni neri insieme premo qui a questo punto con la speranza che un pallone nero spunta fuori ma non esiste non esiste vabbè mi viene da ridere guarda mi viene da ridere sì chi è questo bene fa dieci partite e poi lo rivendo come giocatore ok ragazzi adesso passiamo a spacchettare dieci agenti del campionato che c'era in settimana quindi la lega inglese ecco e andiamo qua con dieci slot dieci tiri qui a un pallone nero solo ma dai buonasera a far uscire il top player qui come iniziamo iniziamo con un pallone d'oro vabbè vediamo un po questo chi è sì vabbè bene al fa ragazzi va bene ma vabbè ci si accontenta altri 9 tiri vediamo un po cosa ne esce fuori vediamo un po qui voglio un pa mi dà almeno un pallone nero un radamel falcao o un van persi grazie pallone nero ragazzi l'ho chiamato ma dai dammi il super top player ma chi è zeco no vabbè zeco è lento ragazzi è lento vabbè dai però ce lo teniamo ce lo teniamo dai altri otto tiri ho chiamato il pallone nero non ci credo ragazzi va beh va io ripremo un altro pallone nero uno dai ora pretendo troppo e beh un pallone argento ci voleva è se vabbè portiere da 71 vabbè lasciamo stare vai vai da adesso zeco è quello più top player che mi è uscito è lento lentissimo ma vabbè no no così no per poco un altro pallone nero beccavo vabbè vabbè non so chi sia questo ma comunque vai altri 6 tiri ragazzi altri 6 tiri abbiamo la speranza di far uscire un altro top player vabbè zeco è stato preso quindi va io premo qui ti fermi sul pallone nero per cortesia no eh no eh no un altro argento ma dai ma che me ne faccio i giocatori argento ma dai oh stop no ho fatto fatto tanto per collezionare tutti questi cartellini qui vabbè vai pallone nero no argento ha deciso che devo fare ancora il pallone argento sì vabbè giocherà 10 partite questo e poi non so che fine farà come giocatore comunque ok ok pallone nero ma dai adesso un altro ce la facciamo e no e no chiedo troppo da avere un altro top player vabbè vabbè questo chi sarebbe ok vabbè bel giocatore stupendo fotomodello ragazzi alti tre tiri e poi finisce qui lo spacchettamento di brado ora premo qui ragazzi e mi esce mi esce pallone oro giustamente giustamente pallone oro che è tutti uguali su questi vabbè sono tutti uguali ragazzi sono tutti uguali vabbè vabbè lasciamo stare lasciamo stare oh mi è il pallone nero ma vai a cagare dai su ok bene tutti i giocatori che faranno dieci partite poi li rivendo perché io nella mia squadra terrò solo i giocatori da ottanta da ottanta in su ecco e basta dai ma guarda che sfiga ma guarda che sfiga vabbè chi è questo ma vabbè ragazzi allora spero che lo spacchettamento vi sia piaciuto e questa settimana vi faccio vedere il campionato che è stato inserito oggi giovedì così settimana prossima ci saranno questi spacchettamenti c'è la wefa champions league cercherò di accumularne 15 dai la butto lì vedo se riesco ad accumularne 15 di cartellini da spacchettare dai quindi ancora un saluto qui dal vostro diablo tex spero che lo spacchettamento vi sia piaciuto ci sentiremo nei prossimi gameplay più tutto il resto di quello che arriverà sul mio canale ciao a tutti ragazzacci Grazie a tutti